Valorizzare i prodotti della ricerca a beneficio delle imprese. Si tratta di un seminario promosso dalla Camera di Commercio di Cosenza per guidare le aziende nella registrazione di brevetti e marchi. L'iniziativa in collaborazione con Dintec, il Consorzio per l'Innovazione Tecnologica, ha lo scopo di promuovere l'utilizzo di strumenti di proprietà intellettuale. Innovarsi dal punto di vista tecnologico e poi non curare la proprietà industriale, e ritengo che ci sia un vulnus nel nostro mondo imprenditoriale. Oggi noi abbiamo proposto questo seminario per divulgare principalmente la conoscenza di come si arriva al brevetti industriale, alla proprietà industriale, come bisogna fare per proteggerla, perché riteniamo che sia il futuro. La Camera di Commercio di Cosenza e il Dintec hanno condotto uno studio sulle imprese locali e il risultato è stato sorprendente. La provincia di Cosenza risulta essere la provincia più attiva in Calabria per quanto riguarda l'utilizzo dei brevetti. All'interno di questi brevetti emergono delle specializzazioni, ad esempio in ambito biomedicale, ma, ancora più interessante, emergono delle specializzazioni in ambito di tecnologie green. Cosenza si sta proponendo sul mercato nazionale come un punto di riferimento per quanto riguarda la green economy. Altro aspetto particolare è che la maggior parte dei brevetti, stiamo parlando di brevetti europei, la maggior parte di questi brevetti è stato depositato da imprese e queste imprese hanno una dimensione di micro-impresa. Perciò stiamo parlando di nuove imprese, di start-up innovative, di spin-off universitari, che in questo momento sono un po' il motore dello sviluppo tecnologico di questa provincia.